Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori si segnalano rallentamenti tra Empoli e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze e tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est in direzione Livorno. Per questi lavori è chiusa l'entrata di Empoli Est in direzione Firenze. In A11 code per il traffico intenso in uscita Sesto Fiorentino provenendo da Firenze. Spostandoci in A1 in direzione Roma a un chilometro di coda per lavori tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Calenzano Sesto Fiorentino. Sempre verso Roma incidente al chilometro 278 e 300 tra Calenzano e Firenze Nord. In direzione Bologna rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie per la visione!